Grazie mille. Di cui sono orgoglioso e il cui merito va diviso equamente fra le migliaia di militanti che ci hanno messo cuore, anima e cervello. È un punto di partenza, nel senso che se siamo riusciti a fare questo in qualche mese possiamo fare anche di più. Sono contento ovviamente per le 384.000 preferenze personali che però sono da dividere rispetto a tutta la comunità. Sono contento dei 200.000 voti presi dalla Lega Nord al centro, al sud e nelle isole che mi fanno ribadire che non erano solo delle passeggiate elettorali ma che io credo fortemente che l'autonomia e la responsabilità faccia bene anche al sud e quindi ci tornerò volentieri per consolidare la presenza della Lega e la scommessa della Lega. Probabilmente venerdì avremo un Consiglio federale e anche di essere Lega Nord, ovviamente di non cambiare il suo modo di essere, il suo essere autonomista, il suo essere indipendentista, il suo spingere per il Veneto che si autodetermini ma essere un po' capofila di tutti gli autonomisti che ci sono anche in Sardegna, in Sicilia, in Sardegna, in Campania. Perché l'autonomia fa bene e il voto europeo ce lo dimostra. Siamo tornati a crescere anche al nord. Lombardia e Veneto evidentemente premiano anche le amministrazioni Maroni e Zaia. In Veneto passiamo davanti a Forza Italia, siamo la prima forza in centro-destra e questo è di buon auspicio per le regionali dell'anno prossimo. Anche in Piemonte, nonostante tutto il fango che ci è stato tirato in faccia, abbiamo quasi raddoppiato il dato politico dell'anno scorso. Mi aspetto sorprese positive anche da comuni che verranno spogliati nelle prossime ore e ci impegneremo nei ballottaggi che ci saranno da qui a domenica prossima. In Lombardia siamo primo partito in provincia di Sondrio e siamo al 20% a Bergamo, a Brescia, vicini al 20% a Varese, a Como, quindi dati assolutamente positivi. C'è un problema centro-destra, se il centro-destra fa il centro-destra e vince in tutta Europa, se il centro-destra fa la stampella della sinistra perde, se il centro-destra non ha coraggio perde, se il centro-destra non ha ricambio perde. Io offro a Berlusconi la possibilità di ricominciare un dialogo già domani mattina e mi piacerebbe che Forza Italia, il suo leader, che invito personalmente, i suoi eletti e i suoi elettori andassero entro questa settimana in tutti i comuni italiani a firmare i sei referendum che sono la vera alternativa politica a Renzi, la legge Fornero sulle pensioni, la legge Merlin per togliere dalle strade e regolamentare la prostituzione, la cancellazione delle prefetture, la reintroduzione del reato di migrazione clandestina, sono provvedimenti di buon senso e probabilmente di centro-destra. Se la Le Pen stravince in Francia, Berlusconi e Alfano hanno qualche problemino in Italia, evidentemente sbagliano loro ad allearsi con Merkel. Io mercoledì ho un incontro con Marine Le Pen, con cui orgogliosamente fanno argine all'inciucio fra democristiani e socialisti a Bruxelles. Spero che gli eurodeputati di Forza Italia e di Alfano non si siedano con la Merkel, perché chi è alleato della Merkel non può essere alleato della Lega. Il dato europeo significativo è che l'euro ha solo qualche mese di vita e non di più e rimarrà una moneta da collezionisti, da feticisti più che da collezionisti, perché la moneta della disoccupazione, come pochi altri, quindi non eravamo dei matti e siamo dei matti in buona compagnia. Dato molto positivo anche in regioni storicamente più difficili per noi, come l'Emilia-Romagna e la Liguria, dove siamo quarto partito e ritorniamo sopra il 5% con decine di migliaia di voti. Dato significativo è quello del Lazio, dove prendiamo quasi il 2% anche a Roma e quindi vuol dire che il messaggio no euro, no immigrazione sia l'Italia che decide per se stessa e non con qualche cretino a Bruxelles è un dato che va bene a Treviso, va bene a Sondrio, ma va bene anche al centro-sud e quindi questa sarà la prossima sfida della Lega che deve rimanere Lega Nord ma deve capire come ampliarsi senza snattarsi, rimaniamo autonomisti, federalisti, indipendentisti e il referendum in Veneto e poi in Lombardia rimangono le nostre due priorità. Però se ci chiamano in Salento, ci chiamano in Catania, ci chiamano in Sardegna, io rispondo che ci sono. Ringrazio tutti quelli che ci hanno creduto anche nei momenti più difficili, ringrazio ovviamente Umberto Bossi e Roberto Maroni, mi intristiscono i tradimenti nella buona e nella cattiva sorte e quindi mi ha fatto veramente una squallida impressione vedere il fuggi-fuggi da Forza Italia e da Berlusconi di persone che non sarebbero state niente senza Forza Italia e Berlusconi però ogni persona si valuta per quello che è anche nei momenti difficili, il momento difficile della Lega l'abbiamo ampiamente superato grazie al lavoro di tutti e quindi da domani si lavora. Ecco, un altro tratto distintivo è che probabilmente molti numeri di telefono, molte sedi elettorali, molti profili Facebook e molti indirizzi mail da domani chiudanno perché in Italia ci sono i professionisti del voto e scappa. Noi rimaniamo con le nostre sedi, con i nostri profili Twitter e Facebook, torniamo nelle piazze, continueremo a girare in camper, per noi la campagna elettorale prende oggi pomeriggio e quindi l'ambizione è quella di abbiamo guadagnato 500.000 voti in un anno ne vogliamo guadagnare altri 500.000 l'anno prossimo mantenendo delle promesse. Il vincitore è Renzi, che è stato più bravo a mobilitare la sua base, sulla base di promesse. Il bello delle promesse è che se le mantieni ti votano, se ne fai tante e troppe e non le mantieni e poi paghi il conto alla cassa. Noi abbiamo cercato di promettere poco e di aprire tanti fronti di speranza. A questo punto dipende dagli italiani. Ripeto, a me piacerebbe entro la settimana fare una fira comune con Silvio Berlusconi e con i suoi neoeletti a Bruxelles sui sei referendum che sono un'opportunità vera, non alla grillo, vera di contrastare Renzi sul piano della politica e dei fatti. Detto questo, ho parlato anche troppo e non ho altro da aggiungere. A occhio, guardando la mia pagina Facebook, questa mattina si apre il mondo anche dei grillini di ritorno e quindi noi dovremmo avere l'intelligenza di aprire le nostre sedi a tutti quelli che hanno qualcosa da dire e da dare. Ovviamente con un minimo di attenzione perché quando torni a vincere è chiaro che torni appetibile però le porte delle sedi della Lega sono aperte a tutti. E quindi basta che ci sia comunanza di intenti e spero che sia Lega, e lo dice l'ex capogruppo dei comunisti padani al Parlamento Padano, e quindi può sembrare bizzarro, però sia la Lega che fa ripartire un centro-destra più normale, più serio in Italia. Io ho chiuso, anche perché le energie sono giunte al limite, se c'è qualche domanda rispondo volentieri. Cosa ne pensa, segretario, l'affermazione del PD nelle aree nord-ovest e nord-est tradizionali del centro-destra? Sono una sfida, sono uno stimolo a fare ancora meglio. Sono stati più bravi a motivare la loro base, probabilmente aiutati anche da un Grillo che insultava dalla mattina alla sera. È chiaro che se Grillo insultava Renzi, mobilitava gli elettori di Renzi. Speriamo che Grillo la prossima volta insulti la Lega e così ci dà una mano a recuperare altre. L'insulto non paga più. E quindi adesso il PD ha un'enorme responsabilità. Però ad esempio il PD in Europa sostiene Schulz. E voglio vedere per i nostri comuni cosa farà il PD a Bruxelles. Il patto di stabilità rimane o viene cancellato? E quindi i voti sono un onore e sono un onere. E quindi per me è una sfida, per Maroni è una sfida, per Zai è una sfida. E io sono convinto che la vinciamo. E quindi sono contento di avere un avversario forte, perché almeno so con chi combatto. Il voto di oggi è, come dice lei, straordinario, un clamoroso rionfo, paragonato a quello di poco più di un anno fa, 500.000 voti. È però un passo indietro rispetto alle europee ultime del 2009, quando la Lega era al 10%. Sì, è anche un passo indietro rispetto al 96. E poi avevo 10 chili in meno nel 92. E sono ingrassato in questi ultimi 22 anni, questo lo ammetto. Si possono fare i confronti che si vogliono. Io ricordo che fino a 4 mesi fa di Lega si parlava per la legge elettorale il salva Lega. Perché i poverini sono brutti, sfigati e scarognati. E se non gli diamo aiutino, spariscono, perché sono al 3%. Io ricordo i sondaggi, ecco, io non me ne ricordo neanche uno di sondaggi di campagna elettorale che dava la Lega al 6%. Quindi poi riparliamo anche di come vengono fatti i sondaggi. Detto questo, sono strafelice di questo risultato. Al 10% ci possiamo tornare, sì. Anche di più. Anche di più. Se riusciamo a vincere la scommessa al nord, ma anche a livello nazionale, anche di più. Io volevo chiedere intanto se questa Lega, che è una Lega quasi nazionale ormai, prevede anche di aprire presto delle sedi al sud in modo stabile. E poi come cambierà il rapporto con NCD alla luce di questo risultato, visto che non è mai stato facile. Noi siamo la Lega Nord per l'indipendenza della Padania. E quindi sostegno i referendum indipendentisti in Catalogna, in Scozia. L'accordo con Marine Le Pen è chiaro. Il voto popolare va sempre rispettato in Veneto, in Ucraina e in ogni dove. E quindi non cambiamo nome o simbolo a seconda delle convenienze, ma ho trovato energie positive incredibili in tante realtà del sud. Avevo scommesso con una radio che se non avessimo preso 500 voti alla mezzia terme mi sarei spogliato. Fortunatamente ne abbiamo presi 800 e quindi ci risparmieremo questa scenetta tragica. Però questo per dire che ci sono tante energie positive da liberare anche al sud, dove proporrò al Consiglio federale di presentarci come il capfila di un soggetto che richiami tutti quelli che vogliono lavorare in autonomia. È ovvio che non puoi fare la Lega Nord Taranto o la Lega Nord Caltanissetta, perché è un'antitesi in termini, però puoi fare la Lega Nord che è gemellata a tante forze autonomiste. In Sardegna ci ha dato una mano il partito Sardo d'Azione, ci hanno dato una mano movimenti culturali di destra piuttosto che di sinistra. C'è un oceano grillino, secondo me, in libera uscita, perché col Vaffa prendi voto una volta, forse due volte, ma non ci paghi il mutuo. E quindi abbiamo un mare di persone con cui confrontarci. Sulle sedi i soldi che abbiamo a disposizione sono quelli che sono. Io penso che la Lega abbia speso in campagna elettorale un ventesimo di quello che ha speso Renzi, che evidentemente ha sponsor meglio attrezzati rispetto a noi. Quindi andiamo piano, però ci arrivano tante richieste, la metà dei messaggi che mi sono arrivati su Facebook arrivano da gente che ci ha votato al centro e al sud. Ovviamente la mia frontiera l'anno prossimo sono le elezioni regionali in Veneto, in Liguria e in Emilia Magna, perché lì voglio vincere. Però tornerò entro il mese di giugno, tornerò almeno tre o quattro voti al sud, perché c'è gente che ci aspetta e quindi non voglio tradire i 200.000 voti che ci hanno dato. NCD. NCD è un alleato fedele in Regione Lombardia e in Regione Veneto. Diciamo che pensavo prendessero qualche voto in più. In chiave milanese mi fa piacere, piccole soddisfazioni personali, però sapete ogni tanto ci sta anche la piccola soddisfazione personale. Mi fa piacere che lo sconosciuto Salvini nel nord-oest abbia preso cinque volte le preferenze del ministro Lupi e siccome io da domani comincio la campagna per sfrattare Pisapia, siamo a disposizione come capfila del centro-destra, stando ai numeri. e basta, l'NCD è un alleato utile e speriamo che non stia più di tanto a sostenere il governo Renzi perché per il momento si sono salvati per il rotto della cuffia. E però fare il centro-destra che sostiene la sinistra crea qualche problema all'elettorato, evidentemente, e giustamente. Facendo voi capfila di questo nuovo centro-destra, proporrete a Forza Italia, al resto del centro-destra, la conferma di Zaia, presidente, l'anno prossimo? Luca Zaia? Beh, Luca Zaia è il governatore stimato d'Italia, stando a tutte le rilevazioni, quindi squadra che vincono si cambia dal mio punto di vista. È presto, è presto, però diciamo che rispetto all'altro ieri la Lega ne esce assolutamente in forza, qualcun altro ne esce un pochino più malaticcio, però siccome noi siamo generosi e non passiamo i prossimi giorni a dire abbiamo vinto, abbiamo vinto, abbiamo vinto e voi siete brutti e cattivi, noi diciamo al centro-destra, forza, coraggio, ripigliarsi, tornare centro-destra, venite a firmare i sei referendum, io voglio andare in Piazza Duomo con Berlusconi a firmare questi sei referendum e poi parleremo di Veneto, di Liguria, di Emilia, penso che Roberto Maroni ne esca assolutamente rafforzato come governatore della Lombardia, vediamo come va in Piemonte, anche se, ripeto, con le palate di fango che ci sono arrivati addosso, aver preso il 7,6% è un risultato secondo me incredibile e poi ci siamo, se il centro-destra vuole fare il centro-destra noi siamo a disposizione, se il centro-destra vuole continuare a balbettare noi andiamo da soli, serenamente, tranquillamente. Buongiorno Salvini, nella mano tesa che offre a Berlusconi c'è anche un eventuale accordo per quanto riguarda le alleanze in vista delle comunali di Milano, mi sembra che siano il suo obiettivo più chiaro a questo punto. Qua parlavo meramente da milanese, non da segretario di partito, io Milano non l'ho mai vista così triste, così spenta e così sporca nei 41 anni da cui ci vivo, poi per carità il PD è primo partito a Milano, quindi evidentemente a molti milanesi va bene così, io non mi rassegno e i molti milanesi che non sono andati a votare, io li voglio riportare a votare perché Milano merita di più e quindi sicuramente la Lega da sola non ce la fa, un centro-destra serio, pulito, giovane, frizzante, spumeggiante, meno dormiente rispetto a Pisa Pia stravince e quindi abbiamo due anni di tempo per far sognare Milano, che è Milano e quindi ci sono. Molto bene, se siamo tutti d'accordo adesso io fermerei perché c'è il Matteo più importante che sta parlando quindi non vorrei distrarre tutti voi dalle parole di saggezza che arrivano da Palazzo Chigi. Grazie. Grazie. Grazie.